Un'indagine condotta e conclusa a tempo di record che è riconducibile ad una vicenda davvero incredibile. È bastata un'incomprensione davanti a un chiosco per panini a scatenare una violenta rissa tra tre giovani. È successo all'alba di domenica in via Francesco Sogliuzzo all'esterno dell'attività Papaleo con i responsabili che però sono stati prontamente identificati. I fatti in questione sono accaduti poco dopo le 5 del mattino, quando al termine di una serata da Movida, molti ragazzi affollavano gli ultimi bar e pub aperti per un panino post discoteca o una consumazione. Davanti al chioschetto di Papaleo c'è Calca, tra i ragazzi in attesa un apprendista orafo di 19 anni napoletano e un 24enne di L'Acquameno. Il panino arriva al 24enne, il più giovane reclama di essere arrivato prima, poi una parola di troppo in risposta, gli insulti e il lancio di alcune monetine contro il 24enne. Un 22enne del posto, amico del giovane appena servito, si lascia coinvolgere e si schiera contro il napoletano sferrandogli uno schiaffo. Il risultato è scontato, pugni calci e maglie strappate. Il 19enne, nonostante l'inferiorità numerica però, non indietreggia e sfila dai pantaloni un coltellino. Colpisce il 22enne alla schiena finché non intervengono altri passanti e cercano di calmare gli animi. Per i due ragazzi isolani, lesioni giudicate guaribili in 6 e 7 giorni, le telecamere in zona riprendono tutto e complice l'esperienza del personale a disposizione del capitano Tiziano Laganà, i tre ragazzi vengono tutti denunciati per rissa e proposti per il Dacur di vieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di intrattenimento e spettacolo. Per il 19enne di Napoli anche la proposta per il foglio di via obbligatorio e dovrà rispondere di lesioni personali aggravate e porto di armi o oggetti atti a offendere. Il locale invece, già teatro di altri eventi simili, sarà proposto per la sospensione della licenza.